Ok, questa volta deve funzionare! Bene, bene, bene! Bene, fatto! Ok, una ciocca di capelli d'unicorno, fatto! Una lacrima di sirene... Fatto, perfetto! Lacrime, capelli, pesci e unicorni, crescere senza peggiorare! Adesso è il momento di controllare e vedere se funziona, che la magia abbia inizio! Sammy, che cos'è questo odore? Che succede? Ho deciso di diventare più grande, la pozione è qui e l'incantesimo è stato detto, devo fare una prova adesso! Con questo sacchetto? Non vuoi che mi ci butti dentro, vero? E se diventassi blu? Andiamo! Che succede? Non vedo! Pensi che abbia funzionato, Sue? Penso che abbia funzionato alla grande! Wow, accidenti! Non credo ai miei occhi, ce l'ho fatta! E voglio dire certo che ce l'ho fatta, in fondo sono il più grande mago! Adesso posso tuffarmi anch'io? Aspetta! Credo ci sia qualcosa dentro quella borsa, vediamo! Ciao ragazzi! Guardate questo gigantesco e meraviglioso Nanana Surprise Ultimate Surprise! È fantastico! È così soffice e variopinto, chi avrebbe mai pensato che la magia avrebbe scatenato questa bellezza? Presto, dateci un pollice in su e cominciamo l'unboxing! Diamo un'occhiata al pacco! Ci sono un sacco di vestiti all'interno e la nostra bellissima Piper Prim è adesso più alta e snodata! Figo! Ma per poter sbirciare all'interno dobbiamo sbarazzarci di questo cartone extra! Opla! Bibidi Bobidi, iscrivetevi! Beh, sì, da mago devo dire che il tuo trucco non era male, ma potresti fare di meglio, sì! Ok, Sammy, cercherò di impressionarti dopo! Guarda cosa c'è in cima a questa borsa a forma di gatto! Oh, per usarla come portachiavi dovrei creare una chiave gigantesca! Sammy, non vuoi vedere che succede quando tirerò questa cerniera? Ci siamo! Wow! Guarda questo! È una delle mie parti preferite, è un sacchetto gonfiabile! Sì! È una cannuccia! Proprio così! Tiriamola fuori, su! Ecco che arriva il sacchetto! Questo playset ne ha uno abbastanza grande! Andiamo, Susie, facciamolo scoppiare! Woohoo! Pronti, partenza, via! Questo sì che era un botto, Sue! Chissà cosa c'è dentro questo sacchetto! Oh, c'è un mucchio di altri sacchetti, incredibile! Sue, è impossibile continuare l'unboxing con questo casino, lascia fare a me! Ah, non è successo niente! Forse ho usato l'incantesimo sbagliato, torno subito, sì, arrivo! Ok, penso che questa volta funzionerà perché ho inventato un nuovo incantesimo! Nase, orecchie, coriandoli nel secchio! Visto, te l'avevo detto! Ben fatto, sì, certo! Adesso possiamo aprire queste bustine! Cominciamo dalla più grande! Vediamo cosa c'è qui! Wow, ragazzi! È un gancio gigante! È in cima a queste simpatiche orecchie da gatto! Wow, ti sta benissimo, Sammy! Ok, andiamo avanti con questo qui! C'è qualcosa di piccolo qui! Eccoci! Oh, ecco il nostro primo capo d'abbigliamento! Guardate, ragazzi, è un top rosa scintillante! Semplicemente stupendo! Sue, hai già aperto due bustine! Voglio aprire io le prossime! Va bene, Sammy, vai avanti, su! Uno e due! Ecco fatto, Susie! Grande! Ehi, Sammy, la tua magia è tornata! Ma che significa che è tornata? Era andata via da qualche parte, per caso? Non era quello che intendevo! Comunque, guardate questo cappello! È così carino con queste orecchie da gatto! Mi piace molto con i colori arcobaleno! Perché così si abbina praticamente a tutto! Ma soprattutto si abbina a questa fighissima giacca arcobaleno! È così soffice! Abbiamo ancora tre bustine, ragazzi! Vediamo che cosa contiene questa qui! Oh, è scintillante! Togliamo la plastica extra! Ragazzi, è una gonna! È così bella! Mi piace tantissimo questo pizzo! Scommetto che starebbe benissimo a Piper Prim! Ma non quanto questo maglione abito! Volevo provarlo, ma sono rimasto bloccato, accidenti! Oh! Lascia che ti aiuti, Sammy! Guardate, ragazzi! È così carino! Ha questo gattino seduto sull'arcobaleno! È come un sogno! Mi piacciono un sacco questi lacci arcobaleno sulle mani, che sembra così insolito! Hai ragione! Ho la sensazione che ogni sorpresa sia più bella della precedente! Il prossimo! Oh, c'è qualcosa di più luminoso qui! Vediamo! Dobbiamo srotolarlo! Fantastico! È un vestito magnifico! O forse dovrei dire un abito da ballo! È adorabile! Ci sono tante gonne e così tanti colori! È bellissimo! Apri questo, Susy! Forza! Eccoci qui! Ehi, la scatola è vuota! Dov'è la bambola? Sammy, svegliati! Siamo nel bel mezzo dell'unboxing! Oh, per un secondo mi è sembrato che ci fossero altre buste gonfiabili nella scatola! Eccole qui! Oh! Vuoi farle esplodere? Sarà meglio che vada a prendere un biscotto! Come vuoi, Sammy! Ehi, non ho intenzione di pulire tutto questo! Certo che no! Ah, Susy! A proposito, questa volta i coriandoli sono più piccoli! Diamo una sbirciata all'interno di questo sacchetto a forma di orso! Altre bustine, sì! E altre ancora! Immagino che dovrò pulire un po' prima di aprirle! Ah, sì! Vedete? Ah, non c'è niente di meglio che avere qualcosa di dolce a metà giornata! Wow, Sue! Ho trovato così tante belle bustine! Apriamole! Io direi di dividerle! Fico! Però... In cambio di tre biscotti! Ah, va bene! Li prendo dalla scorta! Nel frattempo vediamo che abbiamo qui! Siete pronti, ragazzi! Sono così emozionata! Wow! Ragazzi! Guardate questi stivali leopardati e colorati! Hanno zeppe e tacchi per rendere la nostra Piper Prima ancora più alta! Che fico! Susy, mi spiace! È tutto quello che ho! Oh, va bene! Anche a me dispiace! Potrei avere solo un sacchetto allora! Un accordo è un accordo! Volete vedere un po' di magia, ragazzi? Guardate attentamente! E... Guardate queste pantofole! I gattini carini sono così colorati e pelosi! Oh, ne voglio un paio anche per me! Sono contento che ti stia divertendo! Vorrei trovare qualcosa di più spettacolare anch'io! Ma di che parli, Sammy? Questa spazzola è molto carina! È così grande che potrei usarla anch'io! Sì, ma non è giusto! Esigo un altro tentativo con un altro sacchetto! Come vuole, signore! Ne scelga pure uno! Bene, bene! Questo sembra promettente! Troverò qualcosa di meglio di te qui dentro! Staremo a vedere! Qualche idea su cosa ci sia, ragazzi? Vediamo! Wow! Questi sono veri occhiali da gattina! Sono anche color arcobaleno, ovviamente! Fantastici! Piper Prim sarà bellissima con questi! E adesso un'altra busta! Sì, guarda queste bellissime scarpe che ho trovato! Che cosa hai trovato anche tu delle scarpe? Uffa! Non ti arrabbiare! Penso che tutto sommato abbiamo pareggiato! Entrambe sono fantastiche! Ho ragione, ragazzi! Guardate! Questi sono sandali con la scritta PURFECT! E dei gattini carini sul retro! Mi piace molto che siano di diversi colori! E queste sono scarpe gattino bianche con zeppa arcobaleno e graziosi laccetti! Oh! Non riesco a smettere di guardarle! Va bene, Sue! Tutti questi articoli sono ugualmente fighi! È il momento di incontrare la proprietaria! Allora dobbiamo fare questo! Wow! Ragazzi, è la nostra fantastica Piper Prim! Guardiamola da vicino! Sembra così dolce con questi grandi occhi e le lunghe ciglia! E i suoi capelli con questa sfumatura viola sono bellissimi! Ma ecco la parte migliore! Bracce e gambe possono piegarsi! Possiamo mettere in posa Piper Prim per, diciamo, un set fotografico vestita come una principessa! In realtà sto per provare a vestirla proprio adesso! Mi aiuti, Sammy! Ecco a te, Susie! Grazie! Non dimenticare gli occhiali! E anche questo! Oh, grande, Sammy! È il momento di vestire la bambola! Voilà! Mi piace molto come le sta questo vestito! Sembra fatto proprio per lei! La adoro! Questo look è perfetto per una serata a casa con film e popcorn, ragazzi! Intanto le ho cambiato i vestiti! E scommetto che adesso sta bene al caldo! Ci sono così tanti colori in quell'abito! È bellissimo! Mi piace davvero un sacco! E andiamo a fare qualcosa di romantico adesso! Ah! E lasciami passare, Susie! Vorrei catturare questa bellezza per le future generazioni di slime! Ah! 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 Poi per primi, i tuoi capelli sono perfetti! Ti cambierò così tante acconciature! Ti stai divertendo un mondo, Susie? Sammy, che stai facendo? Ora che conosco l'incantesimo perfetto, posso gestire tutte le bambole Nanana Surprise! Aspetta, Sammy, non voglio farti arrabbiare! Ma l'incantesimo non ha funzionato davvero! Ero solo già pronta col playset da prima! Oh, quindi non sono un mago e non sono così bravo! Oh, accidenti! Su con la vita, certo che sei grande! Sei lo slime più spettacolare di YouTube! Anzi no, di tutto il mondo! Ah, sono lusingato! Almeno la mia magia non mi ha deluso durante l'unboxing! Ragazzi, è stato fantastico stare con voi! Iscrivetevi al canale per trovare un sacco di video di Nanana Surprise! E non dimenticate di iscrivervi al canale, eh! Vogliamo sorprendervi con tantissimi nuovi unboxing! Credetemi, non vorrete perderveli! Ciao, ciao! Allora dimmi, cos'è successo quando pensavo di fare magie? Oh, Sammy! Allora dimmi, cos'è successo quando pensavo di fare magie? Grazie.